Un'azienda giovane, un giovane che decide di vinificare in autonomia partendo da qualche anno. L'azienda si chiama Istefanini. Sentiamo il racconto di questa scelta e le novità che porta Vinitaly. Sì, noi siamo una realtà nuova, recente appunto del panorama del Soave. Siamo nati appunto nel 2003, prima conferivamo l'uva e ora dal 2003 in poi abbiamo deciso appunto di vinificare in proprio le nostre uve. Istefanini è il nostro nome, o meglio il soprannome della nostra famiglia perché noi siamo la famiglia Tessari. Una famiglia che si dedica da tantissimi anni alla cura delle viti e una gestione quindi familiare di tutta la filiera. Presentiamo a Vinitaly il Soave Dock il Selese, annate 2012, e il Soave Classico Monte De Toni, annate 2012. Due prodotti che da qualche tempo si stanno difendendo bene nel mercato, anche se difficile del Soave per molti produttori, anche per la qualità che negli ultimi anni tutti questi piccoli e grandi produttori sanno dare alla zona del Soave.